macinato a velocità 5 aggiungete pan carré senza crosta, uovo parmigiano, pepe, sale e latte e aglio liofilizzato a velocità 5 allargate un pezzo l'impasto 150 grammi così prendiamo prosciutto cotto mezza fettina di sottiletta e partendo da qui arrotoliamo adagiamo sopra il macinato richiudiamo così dovete formarli così inserite la cipolla quindi tritiamo 5 secondi velocità 7 portiamo tutto sul fondo aggiungiamo l'olio 3 minuti 100 gradi velocità 1 senza misurino aggiungiamo i piselli quindi azionate il bimbi 5 minuti 100 gradi velocità soft anche orario aggiungiamo l'acqua io utilizzo questo o altrimenti utilizzate il dado classico posizionate il vassoio varoma insieme ai polpettoni bimbi 30 minuti 30 minuti varoma soft anti-orario imporato bimbi 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 Grazie a tutti.